ciao faccio questo video perché voglio un consiglio da voi allora per un aperitivo per una sera un aperitivo volevo sapere qual è l'outfit migliore da mettervi fatevi conto che gli accessori sono sempre gli stessi allora vi faccio vedere questa collana qua che ho preso da telly wavy pagata 98 centesimi perché fallata però io ho cercato di aggiustarla costava 9 euro poi ho preso questi due bracciali che sono sempre da telly wavy erano al 50 per cento per cui tutti i due li ho pagati 5 euro invece che 5 euro l'uno allora ho messo questo vestito a righe che comprai su zalando già l'anno scorso è un vestito tutto di un pezzo non ha cerniere non è niente è difficilissimo di indossare per cui non lo metto mai è fatto di tessuto ma ne fine tra sparito c'è nel fine e spesso diciamo che va bene per questa stagione poi messo delle calze nere e un paio di scarpe con un po di tacchetto dei coltè semplici queste qua sono di nero giardini sono di belle poi sopra abbinare questa magliettina trasparente di filo così fare un pochette piccolina così adesso vi faccio vedere se la seconda idea ciao e questo qua secondo outfit che volevo scegliere uno di questi due allora intanto vi faccio vedere questa magliettina che ho preso dalla benetton a 17 euro l'ho infilata un po dentro la gonna questa qua la gonna che ho preso da forever 21 che mi ha già fatto vedere e la maglietta viene così poi gli accessori come detto sono sempre gli stessi dentro questi orecchini con le perle un po grossi però penso che non stonino con l'insieme degli accessori infili conti e sera la maglietta viene giù così come stivali invece ho messo questi qua che presi non mi ricordo più dove l'ho preso eh sì comunque l'ho preso già questo inverno ho deciso poi le calze non so se le metterò colore pelle oppure lascerò questi pa nere comunque alla fine alla fine della fiera metterò sempre un giubbotto di jeans gli accessori rimarranno sempre uguali non so se metterò ancora una maglietta sopra una bella pochette nera e sono così ditemi voi quale più non indicato magari quello che mi sta meglio quello che vedete ai vostri occhi che mi sta meglio io vi saluto buona giornata ciao